Ciao sono Golkenji e benvenuti al cazzeggio del sabato, oggi proviamo Wom's Revolution Quindi inizia subito la partita, vediamo come va a finire Allora, nel multiplayer quindi aspettiamo, ok Ci togliamo la chatta qua Allora io sono i rossi, lui è i blu Vediamo cosa vuole fare Oh, ho i due lì nascosti Aia No Non mi fare male Cosa vuole fare? Cosa fai? No, no 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 Cattivo ragazzo Mi hanno già fatto fuori uno Allora vediamo un po' eh Usiamo ma Andiamo direttamente con questo eh Così Ecco Ok Vediamo Ok Sì Così Ci metto Una bella torretta Adesso prova a muoverti Adesso prova a muoverti Ok Oh signore Dove è quello lì? Stessa tattica Ahia Ok Ok la torretta funziona Ah 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 Pensavi eh Cosa c'è? Monete Allora Chi di mazza perisce Di chi Di che Ah Ok Niente Non lo dico Però muori Non lo dico Ma muori E ne è andato giù Avanti Il prossimo Cosa c'è qua? Hm Munizioni Vicino alla mia Qua c'è Oh si è mosso Uh Vediamo cosa fa Ok Aprene le monete No Non mi fare male Ma no 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 Tutti così No no Non va bene Non va bene Non va affatto bene Allora Ci prendiamo Con questo palentone Ok Bomba d'acqua Però Non la usiamo subito Usiamo questo Ci cambiamo con lui Allora Dinamite Ok Ok Le No mi ha preso Però Yeah Sono in vantaggio Ah Fireflies Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Non voglio vivere Non voglio vivere Questa planet Non voglio vivere Ora sono freddo Tutto Oh Missile A ricerca Vediamo Eh Vuoi aspettare ancora un po' Ah Cambiato idea Bomba Bombarola No Oh come l'ha pezzata bene Allora Munizioni ma Andarla Facciamola finita Bomba grappolo Anzi no Aspetta Bisogna che ce l'abbiamo Facciamola a battibunker Sopra sotto idiota qua Che Me ne ha uccisi Troppi E intanto l'altro Continua a perdere Cos'ha? Hmm Attrezzi Vediamo Banana Bomb Freeze Aia Fa male Fa male Oh 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 Allora Cosa abbiamo Abbiamo Vabbè Usiamo di nuovo Queste Oh Sono troppo grossa Sono troppo grossa Ehm Proviamo con questo Se lo prendiamo No Non lo prendiamo Quindi Facciamo che far cos'è Cos'è Via di via Da sopra E passo il turno E passo il turno Oh Adesso lo uso Il nuovo Missile a ricerca No La pecora Non la pecora Non la pecora La pecora Non ha funzionato Però Mi ha ucciso Uh Ancora vivo Forse ho vinto Con una combo Vince così Che partita veloce Dovrei aver vinto Oh no Oh no Oh no Chi c'è ancora Uh Andiamo con La bombazza Eh no Non posso Ehm Così Bomba grappola Uh Preso in pieno Uh Yeah Ah Molto easy Molto easy Vediamo un po' Come è andata Quattro ucciso Da me Maggiore danno Inflitto E tante Tante Belle cose Va benissimo Vediamo se vuole fare La rivincita No Quindi Eh Per questo sabato È tutto Commentate Iscrivetevi Continuate A consigliarmi Giochi Perché Sono pronto A fare qualsiasi Gioco Mi proponiate Possibilmente Che sia Abbastanza Fattibile In una sola Puntata Quindi Come detto Commentate Iscrivetevi Un bel mi piace E al prossimo episodio Ciao